Lo shutdown sta creando forti disagi agli americani impiegati nel settore pubblico, continua il braccio di ferro tra democratici e repubblicani. Quali sono le ripercussioni sul sistema economico americano e internazionale? Io credo che questo sia tutto sommato parte della dinamica politica americana. È un naturale confronto tra il Presidente e il Congresso. È già successo nel passato, io sono fiducioso che troverai un accordo. Quindi io credo che i temi su cui noi dobbiamo ragionare non siano tanti il contingente scontro tra le due parti. Ma invece un po' di implicazioni per noi. Io ne vedo due che penso siano interessanti su cui riflettere. Il primo è che in realtà questo scontro nasce da un problema vero che è la spesa sociale americana. E il modello sociale americano, quello della sanità pubblica, è molto più costoso del nostro. Questo lo dico perché rivendico il modello della sanità e dello stato sociale europeo. I paesi europei, quelli che sono cresciuti di più negli ultimi vent'anni, sono proprio i paesi come l'Olanda, come la Finlandia, che hanno proprio investito sul modello dello stato sociale. E io credo che questo sia un insegnamento per noi, per noi come paese, per noi anche come partito democratico. Dobbiamo rivendicare e rafforzare lo stato sociale. Il secondo insegnamento, il secondo spunto che questo scontro mi porta a un po' sollevare è il tema del debito. Il debito pubblico è un problema ed è un problema anche, come vediamo, per uno stato come gli Stati Uniti che parte da un livello di debito più basso del nostro, che comunque ha una crescita più alta della nostra. Il debito non si può aumentare senza freni e questo è un punto importante per noi perché noi siamo già a un livello di debito molto alto e quindi le nostre gradi di libertà di aumentarlo ulteriormente sono molto limitate. Dico questo perché siccome da noi adesso c'è un dibattito ormai da mesi sul fatto di poter avere più flessibilità dall'Europa, di fare più deficit, di aumentare più il debito e credo che il dibattito sia molto più in termini di ma l'Europa ce lo concede o non ce lo concede. Quello che io vorrei dire, come vediamo anche dall'esperienza americana, il problema non è l'Europa, il problema sono i mercati perché se noi dobbiamo rifinanziare più di 2.000 miliardi di debito lo dobbiamo fare in condizione dove i mercati credo che noi possiamo restituire questo debito e quindi non possiamo aumentarlo più di tanto, siamo già a livello abbastanza vicino, a livello della lana. E lo scontro tra democratici e repubblicani in effetti è legato soprattutto all'innazamento del tetto del debito. Quali potrebbero essere, secondo lei, le conseguenze di un mancato accordo? Io penso che anche di nuovo, come dicevo all'inizio, si troverà un accordo, non c'è dubbio, alzeranno il tetto. L'economia americana è un'economia vivace e dinamica, riesce a crescere, per cui per loro aumentare anche un po' il livello di debito è meno un problema che per noi perché crescendo riescono a ripagarlo. Quindi io credo che di nuovo, a parte un po' la turbolenza contingente, da questo punto di vista si troverà un accordo. Certo che, se gli Stati Uniti devono iniziare a restringere la spesa, e questo potrebbe avere implicazione sull'economia globale, perché l'America negli ultimi mesi è in ripresa, e se si mette un freno in un modo lato alla spesa pubblica americana, questo avrà ripercussione a tutto il mondo. C'è un precedente, il blackout avvenuto nel 1996, quando il Presidente era il democratico Bill Clinton, e anche allora la destra repubblicana portò a uno shutdown, durò qualche settimana ed ebbe pesanti ripercussioni sull'economia. Clinton alla fine fu riconfermato, quindi la politica dei democratici risultò vincente. Potrebbe essere così anche oggi, secondo lei? Beh, soprattutto perché adesso, credo di sì, soprattutto perché adesso Obama non abbia il problema di essere rieletto, è il secondo mandato, quindi è molto più libero. Credo che lui effettivamente sia convinto nelle politiche che stia portando avanti, soprattutto su fronte della spesa sociale, dell'assistenza ai poveri, quindi le politiche assistenziali in campo sanitario. Quindi io penso che alla fine si troverà un accordo che comunque non snaturi la riforma di Obama e penso che questo sia tutto sommato anche la soluzione giusta per gli Stati Uniti. Io penso che gli Stati Uniti con un modello di sanità tra virgoletto così libero che porta a costi così alti abbiano qualche problema. Quindi io penso su alcuni fronti è probabile che negli Stati Uniti si dovrà fare un intervento su alcuni aspetti che portano a questi costi così alti, per esempio costi legali, costi di assicurazione medica in America sono esorbitanti. Io mi immagino che da qualche parte dovranno trovare una soluzione a questi costi che stanno lievitando, che fanno sì che chi è povero alla fine non riesce a curarsi. Come giudica la nomina di Janet Yellen alla guida della Banca Centrale degli Stati Uniti? Mi pare la nomina di Yellen sia un fatto positivo appunto per questo motivo, soprattutto se la spesa pubblica americana in qualche modo dovrà essere contenuta. Quindi lo vedo come un fatto positivo, certamente gli Stati Uniti con una Federal Reserve indipendente ha più gradi di libertà che noi con una Banca Centrale Europea che come sappiamo ha molti più limiti e vincoli, quindi penso sia un fatto positivo. di nuovo da solo una politica monetaria spensiva non può durare a lunghissimo perché poi crea il rischio e che dall'altra parte crea una bolla di prezzi di asset sia immobiliari che immobiliari che poi quando si sgonfia si rischia di tornare alla crisi che abbiamo vissuto nel 2008. quindi non è di nuovo è un rimedio utile, importante nel breve non è una medicina salvifica per sempre.